sul metro arbitrale non mi è piaciuto ho anche parlato con l'arbitro a fine partita perché comunque non sono stato d'accordo con molte sue decisioni non è sicuramente colpa sua risultato a lungi da mai dirlo ha fatto ha dato un'espulsione a stanzani molto frettolosa anche perché i ragazzi stavano protestando come hanno protestato la panchina del legnago tutta la partita e quindi non è successo niente di che sinceramente mi aspettavo al massimo un cartellino giallo anche perché non ci aveva mai richiamato e quindi sinceramente non non mi è proprio piaciuto la linea che ha preso l'arbitro ha fatto quattro munizioni in cinque minuti all'inizio della partita ma sia per noi che per loro per tutti e due e comunque va bene così dobbiamo accettare la decisione dell'arbitro anche se a volte è qualche qualche volta un pochino più difficile farlo però la cosa fondamentale che ragazzi non devono pensare all'arbitro non pensare a giocare e speriamo che non capitano più queste cose sì abbiamo fatto una buona partita anche se sinceramente sono abbastanza incavolato per non aver portato a casa i tre punti ci volevano ci servivano ce li meritavamo dobbiamo essere più cattivi in certe fasi della partita abbiamo non abbiamo subito anche un tiro in porta e siamo a casa con un 1 a 1 purtroppo è andata così dispiace perché la prestazione dei ragazzi è stata molto buona eravamo riusciti a soffocare i loro trami di gioco a prenderli un pochino più alti infatti era riuscito bene quello che avevamo preparato e purtroppo abbiamo preso quel gol lì che sono abbastanza mi dispiace abbastanza ecco sì ma è stato un gol per colpa nostra non siamo riusciti a rinviare una palla innocua che stava uscendo abbiamo sbagliato il primo rinvio abbiamo sbagliato il secondo rinvio e le squadre ti puniscono purtroppo si sono viste però delle cose positive vuol dire che il lavoro paga sì no sicuramente la strada è questa è l'unica strada per migliorare questa lavorare 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 abbiamo avuto qualche deficit purtroppo Bertoni non è riuscito a essere dalla partita che ha avuto un problema flessore si è fatto male fietta e anche questo in questo momento per noi sono i due ragazzi che giocano in quella posizione lì e quindi ci hanno tolto parecchio e quindi va bene però però va bene perché comunque abbiamo fatto abbiamo fatto le cose abbiamo fatto in allenamento sono uscite anche bene e quindi per quello bene l'unica roba è il risultato perché ci manca troppo la vittoria sicuramente c'è perlomeno penso più rammarico per non aver sfruttato l'occasione di di portare a casa questi tre punti dopo essere passati in vantaggio ci siamo fatti subito riprendere in una situazione un po' un po' fortuita però comunque sono arrivati prima loro e dobbiamo cercare anche in queste situazioni di di cercare di mettere una pezza qualsiasi cosa succede perché perché erano riusciti a passare in vantaggio e era veramente importante 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 riuscire a portare a casa la vittoria d'altro dall'altro lato penso che la prestazione sia stata una buona prestazione abbiamo portato intensità aggressione abbiamo abbiamo anche trovato buone trame con con il pallone creato occasioni però se la vittoria non è arrivata vuol dire che che vi c'è ancora da lavorare tanto sicuramente e niente riguarderemo la partita per preparare meglio la prossima ma sicuramente ci sono state ci sono state diverse trame di gioco abbiamo col fatto che cercavamo sempre di andare a prendere i alti col come successo nell'occasione del gol poi si recuperi palla in quelle zone la è è più facile più facile creare occasioni da gol e come detto prima è un percorso che stiamo facendo e e dobbiamo solo che continuare cercando di migliorare migliorare migliorare